Covid-19 aumentano i detenuti positivi nelle carceri di Siracusa e noto. Il Covid-19 all'interno delle carceri fa paura ed è il segretario generale del sindacato polizia penitenziario Aldo Di Giacomo a lanciare l'allarme. Nelle carceri italiane il numero dei detenuti positivi al Covid-19 in tre giorni è più che triplicato, passando da 159 del 4 luglio agli attuali 567 con focolai preoccupanti in particolare in Sicilia, 140 positivi di cui 41 a Siracusa e 33 a noto e in Campania 116 di cui 73 a Santa Maria Capoavetere. Anche il numero del personale penitenziario contagiato è fortemente aumentato da 305 del 4 luglio agli attuali 586 agenti. La maggiore concentrazione di persone infette continua a registrarsi, soprattutto nella Sicilia orientale, con una percentuale elevata a Siracusa di circa 74 unità, per fortuna senza sintomi rilevanti. La diffusione di Omicron 5 crea problemi, ad esempio proprio a Siracusa, con una popolazione di oltre 600 detenuti, perché il regime di tre turni giornalieri con un solo medico presente per volta non consente un controllo sanitario continuo e adeguato delle persone infette, dovendo lo stesso provvedere anche alle esigenze ordinarie dell'intera popolazione detenuta. Dopo l'incremento esponenziale dei casi di Covid fuori, il carcere non può essere considerato immune, tanto più che è stata abbassata l'attenzione sulla prevenzione e il controllo con la scomparsa di mascherine e prodotti igienizzanti. Per Di Giacomo, a rendere la situazione ancora più complicata, aggiunge la notizia in contemporanea ai focolai, in alcuni penitenziari, del licenziamento dei mille operatori sociosanitari assunti tramite l'ordinanza 665 della protezione civile del 22 aprile 2020, proprio durante la prima ondata di pandemia, per garantire controllo e assistenza dei detenuti. Si tratta di personale sanitario indispensabile, considerata la continua e costante emergenza di organici che caratterizza il sistema sanitario in carcere. Un contesto drammatico non solo per il Covid, ma anche per la diffusione nei penitenziari di malattie infettive come l'HIV, l'epatite B e C e la tubercolosi. Al di là di peculiari situazioni come quella di Siracusa, occorre sollecitare tutte le ASP territorialmente competenti a fare i maggiori sforzi possibili per assicurare in questo periodo di particolare emergenza una maggiore presenza e attenzione sanitaria nell'ambito delle carceri siciliane sotto il duplice profilo della prevenzione e degli eventuali interventi terapeutici che si rendano necessari.